Siamo qui presenti con il vecchio Tom Forrester, se così possiamo dire, di Beautiful. Ciao a tutti. Anche lei è presente qui per un'importantissima iniziativa benefica questa sera? Questa è una bella dimostrazione della cerità degli italiani, perché ho ascoltato che sono più di 50 beneficenti qui, che guadagnano poco per tutti e anche tutti i cuori di Milano sono qui a contribuire. Sono molto contento di essere uno di questi. Parlando un po' di calcio, lei lo segue il calcio italiano? Un po', è un po' difficile in italiano perché giocano sempre in mezzo della notte quando dormo, però metto in tv come ricordarlo, recuperarlo alla mattina forse. Mi piace molto l'Inter e anche, mi scusi, seguo Roma qualche volta, però l'Inter mi è preferito. Sono molto contento di essere qui in Italia perché siamo tifosi per l'Italia sempre, no?